Oh mio Dio, c'è una torta, qui vi ricevamo questa torta di cioccolato a forma di zucca, oppure vogliamo dei nugget zucca, no fantasmi, oppure delle crocchette a forma di zucca. Ho dei fantastici ghiaccioli a forma di fantasma, zucca, gonfiabili, oppure scheletrini gonfiabili o fantasmi gonfiabili, alla modica cifra di 1,99€. Dopo la mega trashata dei laser di Natale sono arrivati ovviamente anche le proiezioni tipo di Halloween. Le odio queste cose. T-shirt! Tutte uguali, con il saltecchio che si scioglie. E sarai così. Beh, i costumi direi che sono abbastanza cheap. Infermiere, se sì, no no. No, queste le potrei prendere a mia maggio, eh. Quasi sembra che abbia le gambe skinny invece che... Poi qua ci sono degli ammassi tipo di zombie in decomposizione dentro di un sacchetto che uno deve comprare un po' a sorpresa, diciamo. Candeline che non profumano. Non sono bruttissime. Questa. Ah, ok. È una zucca di cera con un'altra candela dentro. Questo, un mini gufo. Psichedelico. Che non si spegne più. Come si spengono queste cose? Vabbè, che continuo ad accenderli. Come si spengono? Forse da soli. Stampini per ghiaccio o quant'altro. A forma di... Ok, questa torta a forma di... Di ragnatela. Sembra più una corazza di tartaruga. E decorata addirittura sembra un campo da calcio, non lo so. Un po' sceno. Questo penso che sia il più serio e un bel kit per lanterna che abbiamo mai visto. Infatti che pesa un casino, quindi penso sia proprio serio. Io ne ho uno comprato a Londra, piccolino, ma questo lo spacca. No, vabbè. Campanello di casa, che devi tirare tipo il ragno. E urla, credo. Urla, suona. C'è versione lui. Lui. Adesivi carini. Adesivi 3D. O anche non 3D. Apriamo cassa 1. O sono arrivato decisamente tardi, oppure non è che ci sia anche una roba. Qua, boh. È carino venire lì della mattina, anche perché è pieno di lunnetti. Stavamo scordati questa meravigliosa pizza di Halloween, che è assolutamente 1,49 euro. Con sopra Bustel. Bustel, con modificanti e una roba nera che non riesco a capire chi è. Ho già fatto il pieno di patatine, ovviamente. Ok, Lidl, hai niente. Vabbè, caramello, mix gommose, però, credo. Vabbè, i cupcake non mi fanno impassire. What a cute. Cioccolata horror. Ok. Il classico. Questi li ho mangiati a Londra, mi facevano cagare. Erano verdi, però. Queste qui a tarantola sono le mie preferite. Le voglio. Le vorrei queste. Cos'è bene, cos'è bene? Questi. Non ho quelle che piacciono a me. Right. Oh my god. Pasta. Ragno. Vitestrelle e zucca. Posso amarla. Malloppino. ho comprato anche la zucchetta